Annabeth Annabeth avrebbe voluto odiare Nuova Roma, ma come aspirante architetto non poteva fare a meno di ammirare i giardini pensili, le fontane e i templi, le sinuose strade di ciottoli e le candide ville. Dopo la guerra dei titani, l'estate prima, aveva ottenuto il lavoro dei suoi sogni per riprogettare i palazzi del Monte Olimpo. Attraversando quella città in miniatura, continuava a pensare «avrei dovuto fare una cupola come quella». «Adoro il modo in cui quelle colonne ti accompagnano nel cortile». Chiunque avesse progettato Nuova Roma lo aveva chiaramente fatto spendendoci molto tempo e dedizione. «Abbiamo i migliori architetti e costruttori del mondo», disse Reina, come leggendole nel pensiero. «È sempre stato così a Roma, anche nell'antichità. Molti semidei restano a vivere qui, dopo il servizio nella legione. Vanno all'università, mettono su famiglia». Persi sembrava interessato. Annabeth si chiese cosa intendesse dire. Forse si era cigliata più di quanto si fosse resa conto, perché Reina rise. «Sei una guerriera, questo è certo. Hai il fuoco negli occhi». «Scusa». Annabeth cercò di addolcire il viso. «Non scusarti. Io sono figlia di Bellona. La dea romana della guerra?» Reina annuì. Poi si voltò e fischiò come per chiamare un taxi. Un attimo dopo, due cani di metallo corsero da loro, levrieri meccanici, uno d'argento e uno d'oro. Si strofinarono sulle sue gambe e scrutarono Annabeth con occhi rossi e luccicanti. «Aurume Argentum, i miei cuccioli», spiegò Reina. «Non ti dispiace se vengono con noi, vero?» Ancora una volta, Annabeth ebbe la sensazione che non fosse una vera domanda. Notò che i denti dei levrieri erano come frecce accuminate. Forse le armi non erano messe all'interno della città, ma quei cuccioli avrebbero potuto farla a pezzi in qualunque momento. Reina la portò in un caffè all'aperto. Il cameriere la conosceva e le diede subito un bicchiere da portare via. Ne offrì uno anche ad Annabeth. «Voi?» le chiese Reina. «Fanno un'ottima cioccolata calda. Non è esattamente una bevanda romana, ma la cioccolata è universale», concluse Annabeth. «Esatto». Sebbene fosse un pomeriggio di giugno, Annabeth accettò e ringraziò il cameriere. Le due ragazze continuarono a camminare, con i cani d'oro e d'argento che gironzolavano nei paraggi. «Nel nostro campo, Athena e Minerva», spiegò Reina. «Conosci le differenze rispetto alla forma greca?» Annabeth non ci aveva mai riflettuto prima. Ripensò a come Terminus aveva definito Minerva, quella dea, come se ci fosse qualcosa di scandaloso. Ottaviano si era comportato come se la sua stessa esistenza fosse un insulto. Presumo che Minerva non sia... altrettanto rispettata. Reina soffiò sulla cioccolata calda. «Rispettiamo Minerva. È la dea dei mestieri e della saggezza. Ma non è una dea della guerra, non per i romani. E poi è una dea vergine, come Diana, quella che voi chiamate Artemide. Non troverà i figli di Minerva qui. E l'idea che Minerva possa avere dei figli... Beh, francamente per noi è un po' sconcertante. Ott! Annabeth si accorse di stare arrossendo. Non aveva nessuna voglia di entrare nel dettaglio in merito ai figli di Athena, considerato che nascevano dalla mente della dea, proprio come Athena era sorta dalla testa di Zeus. Parlare di quelle cose la metteva sempre in imbarazzo. La faceva sentire una specie di fenomeno da baraccone. A quel punto, di solito, le domandavano se avesse l'ombelico, vista la nascita magica. Certo che ce l'aveva, ma non sapeva spiegare perché. E non voleva neanche saperlo. «Capisco che voi greci non vediate le cose allo stesso modo, ma i romani prendono i voti di castità molto seriamente», continuò Reina. «Le Vestali, per esempio, si rompevano i voti e si innamoravano di qualcuno. Venivano sepulte vive!» «Per questo il pensiero che una dea vergine possa avere dei figli...» Concetto ferrato. La cioccolata calda all'improvviso sapeva di polvere. «C'era poco da stupirsi che i romani l'avessero guardata tutto il tempo con quelle facce strane», si disse Annabeth. «Io non dovrei esistere. E perfino se il vostro campo avesse dei figli di Minerva... non sarebbero come te», concluse Reina. «Probabilmente sarebbero artigiani, artisti, forse consiglieri, ma non guerrieri. Non li troveresti mai a capo di pericolose missioni». Annabeth stava per obiettare che lei non era capo di nulla, non ufficialmente, ma si chiese se i suoi amici dell'Argo 2 sarebbero stati d'accordo. Negli ultimi giorni si erano sempre rivolti a lei per ricevere ordini. Perfino Jason, che avrebbe potuto fare leva sul proprio rango di figlio di Giove, o Edge, che non prendeva ordini da nessuno. «C'è dell'altro». Reina schioccò le dita e quando Aurum le si avvicinò, gli accarezzò le orecchie. «Quell'arpia, Ella, ha davvero pronunciato una profezia? Lo sappiamo tutte e due, vero?» Annabeth deglutì. Qualcosa negli occhi rubino di Aurum la metteva a disagio. Aveva sentito dire che i cani riescono a percepire l'odore della paura e perfino a cogliere i cambiamenti nel respiro e nelle pulsazioni degli esseri umani. Non aveva idea se la cosa valesse anche per i cani di metallo, ma decise che era meglio dire la verità. Suonava come una profezia, sì, ammise, ma non avevo mai visto Ella prima di oggi e non avevo mai sentito quei versi. «Io sì», mormorò Reina, «una parte almeno». A pochi metri di distanza, Argentum abbaillò. Un gruppo di bambini si riversò fuori da un vicolo e si assiepò intorno a lui, accarezzandolo e ridendo, per niente turbati dai suoi affilatissimi denti. «Meglio proseguire», disse Reina. Cominciarono a risalire la collina. I levrieri li seguirono, lasciandosi i bambini alle spalle. Annabeth continuava a lanciare occhiate al volto di Reina. Un vago ricordo iniziò a emergere. Il modo in cui lei si portava i capelli dietro un orecchio, il suo anello d'argento con i simboli della torcia e della spada. «Noi ci siamo già incontrate, vero?» arrischiò. «Ma tu eri più piccola, credo». «Bravissima». Percy non si ricordava di me. Reina le rivolse un sorriso asciutto. Di certo avrei parlato di più con mia sorella maggiore, Hilla, che ora è la regina delle Amazzoni. Se n'è andata proprio stamattina, prima del vostro arrivo. Ad ogni modo, l'ultima volta che ci siamo incontrate, io ero una delle ancelle della casa di Circe. Circe. Annabeth ricordava bene il viaggio sull'isola della Maga. Aveva tredici anni allora. Lei e Percy erano prodati lì, navigando nel mare di mostri. Hilla li aveva accolti e aveva aiutato Annabeth a darsi una ripulita, rivestendola, truccandola e acconciandole i capelli. Poi Circe le aveva fatto la sua offerta migliore. Se Annabeth fosse rimasta sull'isola, lei l'avrebbe istruita nelle arti magiche, garantendole un grande potere. Annabeth era stata tentata, almeno un po', finché non si era resa conto che quel posto era una trappola e che Percy era stato trasformato in un roditore. Quest'ultima parte sembrava divertente a ripensarci. Ma all'epoca era stato terrorizzante. Quanto a Reina. Era stata una delle ancelle che le avevano pettinato i capelli. Annabeth scosse il capo, stupita. Hilla è la regina delle Amazzoli? Ma come avete... è una lunga storia, tagliò corto Reina. Ma mi ricordo bene di te. Fosti molto coraggiosa. Non avevo mai visto nessuno rifiutare l'ospitalità di Circe, né tantomeno vincerla in astuzia. Non mi stupisce che Percy ti voglia bene. C'era una nota di rimpianto nella sua voce. Annabeth pensò che fosse più saggio non replicare. Arrivarono in cima alla collina, dove una terrazza panoramica si affacciava sull'intera vallata. Questo è il mio angolo preferito, disse Reina. Il giardino di Bacco. Tralci di vite formavano una tettoia ombrosa. Le api ronzavano tra i caprifogli e i gelsomini, che riempivano l'aria del pomeriggio con i loro profumi inebrianti. Al centro della terrazza c'era una statua di Bacco, in una posa che sembrava di danza classica. Il dio indossava solo un perizoma, aveva le guance gonfie e dalla boccuccia imbronciata, spruzzava acqua in una fontana. Nonostante le preoccupazioni, Annabeth per poco non scoppiò a ridere. Conosceva il dio nella sua forma greca, Dioniso, o meglio, il Signor Di, come lo chiamavano al campo mezzosangue. Vedere il loro vecchio e bisbetico direttore immortalato nella pietra, vestito soltanto di un pezzo di stoffa e con l'acqua che gli sprizzava dalla bocca. Le tirò su il morale. Reina si fermò sul bordo della terrazza. La vista ricompensava ampiamente la fatica della salita. L'intera città si estendeva sotto di loro, come un mosaico in tre dimensioni. A sud, oltre il lago, si scorgevano i templi appollaiati su una collina. A nord, un solido acquedotto si allungava verso le colline di Berkeley. C'erano degli operai che stavano riparando una sezione interrotta, probabilmente danneggiata, durante la recente battaglia. «Volevo saperla da te», disse Reina. Annabeth si voltò. «Saperi cosa?» «La verità. Convincimi che non sto facendo un errore a fidarmi di voi. Parlami di te, del campo mezzosangue. Le parole della tua amica Piper sono intrise di stregoneria. Ho trascorso abbastanza tempo con Circe per riconoscere la lingua ammaliatrice quando la sento. E Jason... Beh, è cambiato. Sembra distante, come se non fosse più tanto romano. Il dolore che si percepiva nella sua voce era come una scheggia di vetro tagliente. Annabeth si chiese se anche lei avesse avuto quel tono durante i lunghi mesi trascorsi alla ricerca di Persi. Almeno alla fine aveva ritrovato il proprio ragazzo. Reina invece non aveva nessuno e aveva la responsabilità di dirigere un intero campo tutto da sola. Annabeth intuiva che avrebbe voluto che Jason la amasse ma lui era scomparso e quando era tornato c'era una nuova ragazza al suo fianco. Nel frattempo Persi era assurto al rango di pretore ma anche lui l'aveva respinta e ora arrivava a lei da portarselo via. Reina sarebbe rimasta di nuovo sola a portare il peso di un compito pensato per due. Mentre viaggiavano verso il Campo Giove Annabeth si era preparata all'idea di negoziare con Reina o anche di affrontarla in uno scontro se necessario ma non si sarebbe mai aspettata di provare compassione per lei. Nascose quel sentimento con cura dubitava che l'altra l'avrebbe apprezzato le parlò invece della propria vita. Raccontò del padre, della matrigna e dei due fratellastri a San Francisco e di come si fosse sentita un'estranea nella propria stessa famiglia. Raccontò di come fosse scappata di casa a soli sette anni, di come avesse fatto amicizia con Luke e Talia e fosse riuscita ad arrivare al Campo Mezzosangue, a Long Island. Descrisse il campo e gli anni in cui era cresciuta lì. Parlò dell'incontro con Persi e delle avventure vissute insieme. Reina era una brava ascoltatrice. Annabeth fu tentata di parlarle dei problemi più recenti. Il litigio con la madre, il dono della moneta d'argento e gli incubi che stava avendo. Quella vecchia paura così paralizzante che per un attimo l'aveva quasi convinta a non partire. Ma ancora non riusciva ad aprirsi così tanto. Reina lasciò vagare lo sguardo sulla città, mentre i cani di metallo gironzolavano per il giardino fiutando l'aria e cercando di acchiappare le api tra i caprifogli. Alla fine indicò un gruppetto di templi su una collina lontana. Vedi quel tempietto rosso? Là verso nord? Quello è il tempio di mia madre, Bellona. Reina si voltò a guardare Annabeth. A differenza di tua madre, Bellona non ha un equivalente greco. È totalmente, autenticamente romana. È la dea che protegge la nostra patria. Annabeth rimase in silenzio. Sapeva molto poco sul conto di quella dea. Rimpianse di non avere studiato di più, ma il latino non le veniva facile come il greco. Giù in basso, in lontananza, lo scafo del largo due scintillava fluttuando sopra il foro, come un enorme dirigibile di bronzo. Quando noi romani iniziamo una guerra, andiamo per prima cosa al tempio di Bellona, continuò Reina. Al suo interno c'è una piccola porzione di terreno che rappresenta il solo nemico. Noi vi conficchiamo una lancia, a indicare che siamo in guerra. I romani hanno sempre creduto che la migliore difesa sia l'attacco. Nell'antichità, ogni volta che i nostri antenati si sentivano minacciati dai popoli vicini, li invadevano per proteggere se stessi. Conquistarono chiunque avessero intorno, osservò Annabeth. Cartagine, i Galli e i Greci. Reina lasciò che il commento restasse sospeso. Non è nella natura di Roma collaborare con altre potenze. Ogni volta che i semi dei Greci e i Romani si sono incontrati, hanno combattuto tra loro. I conflitti tra le nostre due parti hanno sempre acceso la scintilla delle peggiori guerre nella storia dell'umanità, soprattutto le guerre civili. Non deve per forza essere così, obiettò Annabeth. Dobbiamo lavorare insieme. Ogea ci distruggerà entrambi. Sono d'accordo, ma la cooperazione è possibile e se il piano di Giunone avesse dei punti deboli, anche le dèi possono commettere errori. Annabeth si aspettava che Reina venisse fulminata seduta stante o fosse almeno trasformata in pavone, ma non successe nulla. Purtroppo anche lei condivideva quei dubbi. Era commetteva errori, sì. Lei per prima non aveva avuto altro che guai da quella dè altezzosa e non l'avrebbe mai perdonata per essersi portata via Persi, anche se lo aveva fatto per una nobile causa. Non mi fido di lei, ammise, ma mi fido dei miei amici. Questo non è un trucco, Reina. Possiamo davvero lavorare insieme. Reina finì la cioccolata, posò il bicchiere sul parapetto della terrazza e scrutò la ballata come se vi immaginasse le linee di una battaglia. Credo che tu sia sincera, ma se andrete nelle antiche terre e soprattutto a Roma, devi sapere una cosa che riguarda tua madre. Anna betti il rigido le spalle. Mia madre? Quando vivevo sull'isola di Circe, avevamo molti visitatori, continuò Reina. Una volta, forse un anno prima che arrivaste tu e Persi, approdò un giovane. Era quasi impazzito dalla sete e dal caldo. Aveva viaggiato in balia delle correnti per giorni. Non parlava in modo molto sensato, ma disse di essere figlio di Atena. Anna bette si aggrappò al parapetto per paura di cadere. Sì, confermò Reina, notando il suo disagio. Continuava a far neticare di un figlio della saggezza, di un marchio di Atena, della rovina dei giganti che si erge pallida e dorata. Insomma, le stesse cose che poco fa ha detto Ella. Sei sicura di non averle mai sentite prima di oggi? No, non come le ha pronunciate Ella. Anna bette parlava con un filo di voce. Non aveva mai sentito quella profezia, ma sua madre le aveva affidato l'incarico di seguire il marchio di Atena. E quando pensò alla moneta che teneva in tasca, un orribile sospetto cominciò a mettere radici nella sua mente. Ricordava le parole aspre di Atena. Ripensò agli strani incubi che aveva avuto negli ultimi tempi. Questo semitio vi spiegò mai i dettagli della sua missione. Reina scosse la testa. All'epoca non capivo di cosa stesse parlando. Molto più tardi, diventata pretore al Campo Giove, ho cominciato a sospettare. Ma a sospettare cosa? C'è una vecchia leggenda che i pretori del Campo Giove si tramandano da secoli. Se fosse vera, potrebbe spiegare come mai i nostri due gruppi di semidei non sono mai stati capaci di collaborare. Potrebbe essere la causa della nostra animosità. Finché l'antico torto non sarà raddrizzato, dice la leggenda, Greci e Romani non vivranno mai in pace. E la leggenda è incentrata su Atena. Un suono cuto lacerò l'aria. Con la coda dell'occhio, Annabeth vide un lampo di luce. Si voltò appena in tempo per vedere un'esplosione che apriva un cratere nel foro. Un divanetto in fiamme volò per aria. I semidei si sparpagliarono presi dal panico. Giganti? Annabeth portò subito la mano al pugnale, che naturalmente non c'era. Pensavo che il loro esercito fosse stato sconfitto. Non sono i giganti! Gli occhi di Reina ribollivano di rabbia. Avete tradito la nostra fiducia! Cosa? No! Ma non feci in tempo a dirlo che Largo 2 lanciò un secondo attacco. La balista di Babordo scagliò un arpione incendiario di fuoco greco che attraversò lo squarcio sul tetto del Senato ed esplose, illuminando l'intero edificio come una zucca di Halloween. Chiunque si fosse trovato all'interno s'antinumino! Annabeth si sentì quasi piegare le ginocchia dalla nausea. Reina, non è possibile! Non faremo mai una cosa del genere! I cani di metallo accorsero al fianco della padrona. Ringhiavano contro Annabeth, ma si muovevano incerti, come se fossero riluttanti ad attaccare. Stai dicendo la verità, stabilireina. Forse non eri a conoscenza del tradimento, ma qualcuno dovrà pagare. Giù, nel foro, era il caos. La gente scappava in ogni direzione, facendosi largo a spintoni. stavano scoppiando delle risse. Qui rischiamo il massacro, disse Reina, allarmata. Dobbiamo impedirlo, andiamo! Annabeth ebbe la terribile sensazione che quella fosse l'ultima volta che lei e Reina agivano di comune accordo, ma corsero insieme giù per la collina. Se le armi fossero state ammesse in città, gli amici di Annabeth avrebbero già fatto una brutta fine. I semidei romani presenti nel foro si erano fusi in un'unica massa in ferocita. Alcuni lanciavano piatti, cibo e sassi contro Largo II, pur essendo del tutto inutile, dato che la maggior parte delle cose non faceva che ricadere giù. La folla aveva circondato Piper e Jason. La lingua ammaliatrice di Piper era inutile contro tutti quei semidei che urlavano rabbiosi. Jason aveva la fronte insanguinata. La folla aveva fatto a Brandelli il suo mantello di pretore. Continuava a dire «Sono dalla vostra parte!» Ma la maglietta arancione del campo mezzosangue non migliorava di certo le cose e nemmeno la nave da guerra che bombardava di lanci infuocate la città era di grande aiuto. Un colpo atterrò in una bottega vicina, riducendola in macerie. «Per le bracche di Plutone!» imprecò Reina. «Guarda!» Legionari armati stavano correndo verso il foro. Due truppe di artiglieria avevano montato le catapulte a pochi passi dalla linea del Pomerium e si stavano preparando a fare fuoco sul Largo 2. «Non faranno altro che peggiorare le cose!» disse Annabeth. «Odio il mio lavoro!» ringhiò Reina. Si allontanò di corsa verso i legionari seguita dai cani. «Persi, dove sei?» si chiese Annabeth perlustrando disperatamente la folla. Due romani cercarono di afferrarla. Lei li schivò e si tuffò in mezzo alla calca. Come se i semidei inferociti, i divanetti in fiamme e gli edifici bombardati non bastassero, centinaia di spettri violacei svolazzavano per il foro, attraversando il corpo dei semidei e urlando cose senza senso. Anche i fauni stavano approfittando della confusione generale, depredando i tavoli di ogni traccia di cibo e bevande. Uno superò Annabeth trotterellando con le braccia piene di tacos e un intero ananas tra i denti. Una statua di Terminus si materializzò con un'esplosione proprio di fronte alla figlia di Atena. Le urlò contro qualcosa in latino, dandole senza dubbio della bugiarda traditrice, ma Annabeth si limitò a rovesciarla e continuò a correre. Finalmente individuò Persi. Insieme a Hisele Frank si era piantato al centro di una fontana e respingeva i romani a colpi d'acqua. Aveva la toga a brandelli, ma sembrava illeso. Nell'istante in cui Annabeth lo chiamò, un'altra esplosione fece tremare il foro. Stavolta il lampo di luce era proprio sopra le loro teste. Una delle catapulte romane aveva fatto fuoco. L'argodù e cigolò e si inclinò di lato, con le fiamme che ribollivano sopra lo scafo di bronzo. Annabeth notò una figura che si aggrappava disperatamente alla scaletta di corda, cercando di scendere. Era Ottaviano, con le vesti fumanti e la faccia nera di fuligine. Nel frattempo, Persi travolse la folla con un'altra raffica di acqua. Annabeth, gridò, ma che accidenti sta succedendo? Non lo so, strillò lei di rimando. Corse da lui, schivando un pugno romano e un vassoio volante. Ve lo dico io quello che sta succedendo, urlò una voce dall'alto. Ottaviano era arrivato in fondo alla scaletta. I greci ci hanno bombardato. Il vostro amico Leo ha puntato le armi contro Roma. Il petto di Annabeth si riempì di idrogeno liquido. Si sentiva sul punto di esplodere in un milione di pezzi di ghiaccio. Stai mentendo, ribatté. Leo non farebbe mai una... Ero lì, strepitò Ottaviano. L'ho visto con i miei occhi. Largo 2 rispose al fuoco. Una delle catapulte esplose in mille pezzi. I legionari si sparpaglierono nei campi. Annabeth ringhiò per la frustrazione. Nessuno aveva più il tempo di capire quale fosse la verità. L'equipaggio del campo mezzosangue era in netta inferiorità numerica. Anche se probabilmente era tutta colpa di Ottaviano e dei suoi trucchi. Non sarebbero mai riusciti a convincere i romani prima di essere travolti e uccisi. Dobbiamo andarcene, disse a Persi. Subito! Lui annui, cupo. Eisel, Frank, a voi la scelta. Venite con noi? Eisel sembrava terrorizzata, ma indossò l'elmo. Certo, ma sarà impossibile raggiungere la nave se non riusciamo a guadagnare un po' di tempo. E come? chiese Annabeth. Eisel fischiò. Un lampo color nocciola attraversò il foro come una freccia. Un cavallo maestoso si materializzò accanto alla fontana. Si impennò, nitrendo forte e schiacciando con gli zoccoli la folla. Accanto alla sella c'era una lunga spada della cavalleria romana. Eisel salì in groppa al cavallo come se non avesse fatto altro in vita sua e sguainò la lama dorata. Mandatemi un messaggio iride quando sarete al sicuro e vi raggiungerò. Vai, Arion, corri! Il cavallo sfrecciò in mezzo alla folla a una velocità incredibile, facendo arretrare i romani e spargendo il panico. Annabeth avvertì una scintilla di speranza. Forse avrebbero potuto uscirne vivi. Poi, in mezzo al foro, udì la voce di Jason. «Romani, vi prego!» gridava il figlio di Giove. Lui e Piper erano bersagliati da una vera e propria pioggia di sassi. Jason cercava di proteggere la ragazza, ma all'improvviso un mattone lo colpì in fronte, facendolo accasciare a terra. La folla si fece avanti. «Indietro!» urlò Piper. La sua lingua magliatrice investì i romani come un'onda, facendoli esitare. Ma Annabeth sapeva che l'effetto non sarebbe durato. Lei e Percy non li avrebbero mai raggiunti in tempo. «Frank, tocca a te!» disse Percy. «Puoi aiutarli?» Annabeth non capiva come avrebbe potuto, ma Frank deglutì nervosamente. «Toddei!» mormorò. «Sì, certo! Voi però salite subito a bordo!» Percy e Annabeth si lanciarono verso la scaletta. Ottaviano era ancora aggrappato all'ultimo nodo, ma Percy lo tirò giù senza tanti complimenti. gettandolo in mezzo alla folla. Cominciarono ad arrampicarsi mentre i legionari armati entravano nel foro. Le frecce fischiarono a pochi centimetri dalla testa di Annabeth. Un'esplosione rischiò di farle perdere la presa. Giunta a metà strada, udì un rugito ai suoi piedi e guardò in basso. I romani strillavano e fuggivano mentre un enorme drago avanzava nel foro. Una bestia perfino più spaventosa della polena del Largo 2, con la pelle ruvida e grigia come un varano e le ali da pipistrello. Frecce e sassi rimbalzavano sulla sua corazza. Il mostro raggiunse Piper e Jason, gli afferrò con le zampe anteriori e si librò in aria. Ma quello è... Annabeth non riusciva nemmeno a trovare le parole per dirlo. Frank, confermò Percy, poco più in alto di lei, ha qualche talento speciale. A dir poco, mormorò Annabeth, continua a salire. Senza il drago e senza il cavallo di Hazel a distrarre gli arcieri, non ce l'avrebbero mai fatta. Ma alla fine, superando una fila di remi spezzati, furono sul ponte. Il sartiame era in fiamme, la vela di trinchetto era strappata a metà e la nave sbandava malamente a dritta. Non c'era traccia di Edge, ma Leo era al centro della nave e stava ricaricando la balista in tutta calma. Lo stomaco di Annabeth si strinse per l'orrore. Leo urlò, che cosa stai facendo? Li distruggo. Il figlio di Efesto si voltò a guardarla. Aveva gli occhi velati di bianco, si muoveva come un robot. Li distruggo tutti. Si voltò di nuovo verso la balista, ma Persi gli fu addosso in un secondo, gettandolo a terra. Leo picchiò la testa e rovesciò le pupille. Il drago grigio comparve in aria, volteggiò una volta intorno alla nave e atterrò a prua, depositando Jason e Piper. Vai, gridò Persi, portaci fuori di qui! Sconvolta, Annabeth si rese conto che stava parlando con lei. Corse al timone, fece l'errore di guardare oltre il parapetto e vide una fila di legionari armati che serrava i ranghi nel foro, pronti a bersagliarli di frecce infuocate. Hazel spronoarion e galoppò via dalla città, seguita da una folla inferocita. Altri romani stavano trasportando nuove catapulte. Lungo tutta la linea del Pomerium, le statue di Terminus brillavano di luce viola, come caricandosi di energia per lanciare chissà quale attacco. Annabeth guardò i comandi, ma le disse Leo per averli fatti così complicati. Non c'era tempo per chissà quale manovra complessa, ma almeno un comando di base lo conosceva. Su! Afferrò la cloche e la tirò forte verso di sé. La nave emise un gran cigolio. La prua si impennò a un'angolatura terrificante. Le funi degli ormeggi si strapparono e Largo 2 schizzò verso le nuvole. a un'angolatura